musica 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 ah, sono qua a casa tranquillo riesco a vedermi un video di Clueo Makeup adesso meno male ehm, scusa quello è il sogno a Vegas aperto cazzo il video è vero bello a tutte le ragazze e ragazze io sono Fenix e lui eh? ecco la fantasia in realtà si chiama Rocco lui perchè in questo video tratteremo proprio di una cosa che Rocco la vede in prima persona l'erezione questo gioco è l'erezione come vedete oltre alla grafica e stranamente 60 fps più o meno siamo anche tornati ma questo è un altro non c'entra un cazzo questo è il video di Battlefield che è della? è della Dice quella che fa Battlefield è la stessa cosa di Battlefield è molto più bella è Star Wars Battlefield questo è infatti se vedete nei video una foto di Rocco è normale non preoccupatevi comunque vogliamo ringraziare Instant Gaming che ci propone i giochi e tranasciamo questo cominciamo a parlare di chi è Fenix io eh io sono un amico di Fenix che a breve farò anch'io dei video quando avrò un computer dicendo o meglio quando avrò un computer ecco il problema è quello vabbè adesso partiamoci lanciamo ci proiettiamo nel futuro parlando delle prime impressioni su questo gioco allora io l'ho giocato e devo dire che è una figata cioè non è non è classico Battlefield con los duty questa è un'altra cosa è molto tu ti siedi accendi il gioco e sboli a parte quello va lì premi i tuoi tasti premi il tuo joystick fai quello che vuoi e sei già in campo senza fare niente senza schiacciare 880 tasti ti sboli ti salti ti abbassi mentre voli fai 880 metri in volo quante cose però è così qua fai una cosa spari e lanci le granate basta e guida i veicoli fai solo questo anche c'è da come dice da frenare ok c'è lui fai queste cose cioè il gioco è proprio diretto pum pum spari i raggi laser pum le granate quando scoppiano quando cannoni caccia è bellissimo vabbè vabbè è un po' fiero questo gioco devo dire provate vabbè se andate a games week provatelo e se l'avete già provato non l'avete capite scusatemi i commentari non tanto tecnico ma come so giocare bene qua tu cosa ne pensi di questo gioco allora io ho giocato tutti i due battlefront su qualsiasi piattaforma e devo dire Star Wars è il mio film preferito è battlefront uno dei miei videogiochi preferiti e vederlo con il frostbite con questa grafica con tutte le armi le animazioni tutto veramente una cosa allucinante non vedo l'ora che esca non l'ho potuto provare scorta una panette questo mi fa disperare però vedendo i video mi è sembrato veramente un gioco fantastico ben bilanciato forse la mappa di hot quella sulla neve è un pochettino sbilanciata per i ribelli perché ci sono gli at la feed le feed ci sono gli at degli imperiari che sono quei i camminatori giganti e fanno veramente cool però per il resto mi sembra un gioco veramente fantastico non vedo l'ora che esca perché ovviamente lo prenoteremo subito sicuro questi cari arriveranno sicuro video su questi poi aspettatevi anche un video al games week perché mancano due settimane e andiamo al games week se entra qualcuno adesso tiro gli uno di quei porconi cazzo che vabbè comunque niente come impressione del gioco niente niente a dire praticamente è un è il gioco dell'altro no è stra bello quello e need for speed saranno orgasmi figa veramente poi niente anche subito abbiamo parlato del gioco poi ho avventato nel sottofondo avete visto le ispezioni di gameplay che ho fatto io sarò proprio bravo sono come un pro player un pro player a giocare guarda qua infatti guarda qua parliamo dei progetti futuri i progetti futuri sono molto vasti ci apriamo tipo religione nuova una nuova religione guarda che che è il gioco lì ci apriamo ostia de dio ci apriamo nella nostra religione ma probabilmente i progetti non riusciamo a parlarne cazzo eh faremo altri video faremo faremo subito adesso un altro praticamente penso vlog vabbè non vi importa noi vi salutiamo da Fenix e da Lennox si è un orgasmo per voi per noi ma per noi la ed Grazie a tutti.